Cavalcata delle Orobie da dimenticare, quella di ieri anche sulle nostre strade, oltre allo schianto mortale di Brembilla, ha costato la vita un 37enne bresciano, altri tre motociclisti sono rimasti feriti a Rovetta e Oneta. Sentiamo Vladimir Lazzarini. Il primo poco dopo le 11 a Rovetta, nei pressi della Rotonda per San Lorenzo. Sono rimasti coinvolti due amici di 63 e 49 anni, di Faragiradada, che viaggiavano a bordo delle rispettive moto. Per cause imprecisate si sono urtati e sono finiti a terra. Le conseguenze più gravi le ha riportate il 63enne, che aveva perso conoscenza. Con l'elicottero è stato trasportato all'ospedale Bolognini di Seriate e ricoverato nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata. Ha riportato un trauma cranico e varie lesioni. Il 49enne è stato invece portato a Piario, dove è stato giudicato guaribile in una ventina di giorni. L'altro incidente è avvenuto intorno alle 12.40 a Cantoni Doneta. Un 32enne, che stava partecipando alla cavalcata, è finito fuori strada nell'affrontare un tornante, nei pressi del santuario della Madonna del Frassino. È stato soccorso con l'eliambulanza e portato agli ospedali riuniti di Bergamo.